sono tornato su youtube ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi sono tornato su youtube su youtube su youtube fortunatamente era praticamente da un anno che non pubblicavo più niente su questo su questo canale quindi comunque ringrazio tutti quanti per quanto visti 40 iscritti al canale che sono comunque tanti per un canale che ha pochi video e comunque la pubblicazione in questi ultimi anni è stata pari a zero oggi sono qui per mostrarvi un avvenimento accaduto al milan games week del 2018 partiamo subito la prima di far vedere per la così I believe I can fly 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 I believe I can fly